Nuovo appuntamento per il ciclo di conferente promosso in occasione della mostra Prima del 3D piccole carte a sorpresa e libri animati XIX-XX secolo visibile fino all'11 aprile alla Biblioteca della Regione. Ospite della serata è il direttore del Museo Nazionale della Montagna Aldo Audizio che ha parlato sul tema collezionisti di montagne, dalle carte da collezione ai giochi da tavolo. Il mondo delle carte da collezioni è estremamente vasto e diversificato. In questa vasta diversificazione ci sono anche le montagne. Il nostro Museo Nazionale della Montagna, oltre alle collezioni tradizionali, ha una rilevantissima collezione di oggetti di questo tipo che narrano in un qualche modo il percorso dall'Ottocento ad oggi della carta da collezione. Sono alcuni pezzi straordinari che, organizzati in un dato modo, permettono di leggere momenti storici, situazioni e percorsi.